cosa sarà mai questa è la shopper di Iaro mi hanno mandato credo quattro pezzi della luce e sono regalo di Iaro per per le admin per il loro per il loro lavoro insomma per la meravigliosa idea di far tessere questa questa bellissima fascia e rosico un po francamente perché l'avrei voluto anch'io allora le dimensioni sono rispettate e loro dichiarano 60 per 50 il loom state ed effettivamente adesso spero che si veda bene ok ed effettivamente è così anzi secondo me è un paio di centimetri in più ricordate che dopo il lavaggio tutte le fasce perdono dai 5 all'8 per cento più o meno sul 5 per cento e vediamo come fatta dentro visto che la domanda ricorrente le ultime giorni cioè da quando Iaro va detto aveva pubblicato sulla propria pagina facebook e poi caricato sul sul negozio le shopper ma c'è o non c'è la cerniera le tasche ci sono la risposta è no la risposta è che è una shopper vecchio stile proprio semplice all'interno spero che si veda sì all'interno è fatta in questo modo non ci sono tasche non c'è nulla i manici sono belli lunghi è interamente fatta in fascia non c'è nessun altro componente nessun altro materiale c'è qui vedete c'è l'etichetta si vede non è possibile portare nell'altro senso almeno io non la porterei mai perché ci sono le cuciture a vista si vede sì sì ci sono qui sì ci sono le cuciture a vista insomma a me non piacerebbe però insomma io potrei fare come meglio crede è molto leggera si compatta facilmente ed è sì insomma è una shopper nel senso che è nata proprio per portarvi tutto adesso ho troppo per andare al mare per andare io la userei tranquillamente per andare a fare la spesa è una borse un po più bellina insomma il prezzo è sicuramente molto contenuto perché stiamo parlando di borse che vanno dai 29 39 euro più spedizione a seconda del modello a seconda realtà della fascia utilizzata ed è un modello un pochettino diverso da da quelle che si vedono sempre c'è di solito troviamo delle borse fatte in fascia che vogliono essere borse vere e proprie vere e proprie quindi passiamo a granati baby che ha comunque la cerniera le sue taschine eccetera invece questa è una borsa da da combattimento è molto grande molto capiente molto comoda leggera si può tranquillamente mettere appunto in lavatrice perché è interamente fatta di fascia quindi non ci sono parti più delicate e secondo me è di una grande funzionalità ripeto qualcosa di qualcosa di diverso a me a me piace peccato che non potrò avere questa e comunque le altre dovrebbero arrivare spero settimana o questa settimana o più facilmente settimana prossima ve le farò vedere anche quelle dal vivo vi farò vedere anche quelle dal vivo e niente al prossimo video ciao ciao